Mi raccomando, l'ho ripreso. Sì, stanno arrivati. Io se ci avessi avuto la macchina che la porto già va a uscire. Mi era preso un'altra. La paura che mi è scontata. Scendevi e partivi. Guarda quello con la macchina vicino. Guarda come rischiano. Guarda anche le due macchine vicine. Quello io ti dico, ce l'avessi avuta così. Via, 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 via. A mo' c'è sale? No. Registra? Madonna che casotto. La macchina questa vicino, guarda. Vai, se no ti scoppia tutto conto. Fa stato velocissimo. Adesso chiamate l'ambulanza per il proprietario della macchina. No, è quella roba bianca, non so, quello che c'è. Anche questi con la macchina vicino. L'abbiamo. Eh, se trova la macchina così. E poi non si è accorto perché non si è afficinata. E poi dove sono spinto. Beh, lì il parcheggio è... Poi è privato. È chiuso, è chiuso il parcheggio. Questa è qualcuno che è qui. Ce l'avete la polizza contro l'incendio sulla macchina? Fate. No, ma io ti voglio dire, anche uno, non è nemmeno uno che ha vincaluito. Ma fatta mettere adentro. Sono accorti del nemmeno. Sono accorti del nemmeno. Sono accorti del nemmeno. È purace. Guarda, veramente. Cosa stile da Roma che non ce le vuole disturba? Ma tu come te sei accorto? Hai visto il fumo? Ho visto sta nebbia. Ma che è? È bruciata. È fuoco mia macchina. Rossa. Eh già, era vero. C'hai figli. C'hai figli piccoli perché... Ma quella, la macchina vicino. Tu pensa anche a quello di... C'è un po' di bianco che sta lungo, ha detto, ma che c'è? E dopo appena mi sono affattata, ha già chiamato le chiamate. Ma anche la macchina vicina, ha detto, è attacchino. C'è un po' di salita la macchina vicina, mi diceva, non è l'anima. Che paura che spezziamo. Sì, sì. Benissimo. Sono stati molto rapidi. Ha telefonato nel raggio di quanto? E' un po' di ragazzi che avevano già telefonato qua con un'altra. Non ci sono da andare alla macchina. Io porto l'acchina polizia. Ma andamelo qua anche a me. Senti, fa il 115. È il 115. Ma se fa il 113 te lo tassano come il 118. È unificato. Sì. Tu vai neri e prendi la macchina a fare il piano colbo. Ma che pensa davvero il proprietario? Vedi anche il vetro, qualcosa. Ma il vetro non si è fuso? Sì, si è fuso di da tutto. Vedi come scolla tutto. Se no esplode il vetro, capito? Sì. Ma devono roma. Vedi come sa. Basta, ne? Sì, mi pensi che sì. Quello è un corto. Quattro minuti. Scusa. Quanto no si bolle. Quando i soldi... No, sai che c'è? Basta, basta. Basta, perché... Basta. Basta. Grazie.